la parola calcio è unicamente italiana evoca passione storia e un amore profondo per il gioco più bello del mondo derivato dal verbo italiano calciare il calcio rappresenta molto più di un semplice sport in italia è un fenomeno culturale uno stile di vita il termine è emerso alla fine del diciannano e simo secolo sostituendo l'inglese football questo cambiamento linguistico rifletteva la crescente popolarità dello sport in italia e il desiderio di conferirgli una distinta identità italiana la federazione italiana gioco calcio fondata nel 1898 è l'organo di governo del calcio italiano da oltre un secolo la figc ha giocato un ruolo cruciale nel plasmare il panorama calcistico del paese influenzando non solo il gioco stesso ma anche la cultura sportiva italiana con sede a roma la figici sovrintende a tutti gli aspetti dello sport dai campionati professionistici alle competizioni amatoriali la sua influenza si estende su tutto il territorio nazionale garantendo che ogni partita grande o piccola rispetti gli standard elevati che hanno reso il calcio italiano famoso in tutto il mondo e ai programmi di sviluppo giovanile questi programmi sono progettati per scoprire e coltivare i talenti emergenti offrendo loro le risorse e le opportunità necessarie per eccellere svolge un ruolo fondamentale nella promozione e nell'alimentazione del calcio a tutti i livelli garantendone la continua crescita e il successo attraverso eventi promozionali e iniziative di base la figici lavora instancabilmente per mantenere viva la passione per il calcio in ogni angolo d'italia la figici è responsabile dell'organizzazione di tornei nazionali tra cui la prestigiosa serie a e la coppa italia questi tornei non solo mettono in mostra il meglio del talento calcistico italiano ma fungono anche da piattaforma per l'innovazione e l'evoluzione del gioco gestisce anche le squadre nazionali italiane sia maschili che femminili in diverse fasce d'età queste squadre rappresentano l'italia nelle competizioni internazionali portando con orgoglio i colori nazionali e dimostrando l'eccellenza del calcio italiano l'impegno della federazione nello sviluppo dei giovani talenti è stato determinante per mantenere l'italia ai vertici del calcio mondiale attraverso accademie giovanili e programmi di formazione la figici assicura che il futuro del calcio italiano sia luminoso e pieno di promesse le radici del calcio possono essere fatte risalire alla fine del diciannadesimo secolo quando mercanti e marinai inglesi introdussero il gioco nelle città portuali come genova e torino genova un vivace centro marittimo vide la nascita del genoa cricket and athletic club nel 1893 il più antico club di calcio italiano ufficialmente documentato lo sport si diffuse rapidamente tra i giovani italiani affascinati dalla sua semplicità e dinamicità le prime partite si svolgevano spesso su campi improvvisati con attrezzature rudimentali e regole appassionate ma informali tuttavia i semi di un'ossessione nazionale erano stati piantati la serie a istituita nel 1929 è il massimo campionato di calcio italiano e uno dei più prestigiosi al mondo vi partecipano 20 delle migliori squadre del paese che si sfidano in un'estenuante battaglia lunga una stagione per l'ambito scudetto assegnato ai campioni d'italia la coppa italia la competizione nazionale di coppa offre un'altra piattaforma per i club italiani per mettere in mostra il loro valore istituita nel 1922 prevede una fase a eliminazione diretta che culmina in una grande finale che si tiene solitamente allo stadio olimpico di roma i club italiani hanno sempre eccelso nelle competizioni europee consolidando il loro status di alcune delle forze più formidabili del calcio mondiale le squadre italiane non solo hanno vinto numerosi trofei ma hanno anche mostrato un livello di gioco che ha ispirato generazioni di tifosi e giocatori la uefa champions league la principale competizione europea per club ha visto i trionfi di giganti italiani come milan inter e juventus questi club hanno scritto pagine indelebili nella storia del calcio europeo il milan con sette titoli di champions league è il secondo club di maggior successo nella storia della competizione le loro vittorie sono state caratterizzate da prestazioni straordinarie e momenti indimenticabili inter e juventus hanno entrambe sollevato il trofeo tre volte contribuendo all'impressionante bottino di trofei europei dell'italia ogni vittoria ha rafforzato la reputazione dell'italia come una potenza calcistica l'acume tattico la solidità difensiva e il talento offensivo delle squadre italiane hanno lasciato un segno indelebile nel calcio europeo le squadre italiane continuano a essere un esempio di eccellenza dimostrando che il calcio italiano è sinonimo di qualità e passione la nazionale italiana di calcio affettuosamente conosciuta come gli azzurri è un simbolo di orgoglio e unità nazionale ogni partita giocata dagli azzurri è un evento che unisce milioni di italiani creando un senso di appartenenza e patriottismo che va oltre il campo di gioco con quattro titoli di coppa del mondo fifa è una delle squadre nazionali di maggior successo nella storia del torneo questi trionfi non sono solo vittorie sportive ma rappresentano momenti di gioia collettiva e orgoglio nazionale che rimangono impressi nella memoria di ogni tifoso le loro vittorie nel 1934 1938 1982 e 2006 sono impresse negli annali del calcio italiano ogni vittoria ha una storia unica fatta di sacrifici determinazioni e momenti indimenticabili che hanno definito generale di calciatori e tifosi il viaggio degli azzurri è stato un ottovolante di esaltanti successi e cocenti delusioni ogni sconfitta ha insegnato lezioni preziose rendendo le vittorie ancora più dolci e significative hanno anche assaporato la gloria nel campionato europeo web sollevando il trofeo nel 1968 e nel 2020 questi successi europei hanno consolidato la loro reputazione come una delle squadre più formidabili del continente il loro stile di gioco distintivo caratterizzato da disciplina tattica resilienza difensiva e opportunismo offensivo gli è valso ammirazione e rispetto in tutto il mondo ogni partita è una dimostrazione di abilità strategia e passione rendendo gli azzurri una squadra amata e temuta da tutti la coppa del mondo fifa 2006 tenutasi in germania ha visto la rinascita della nazionale italiana guidati dal capitano fantastico fabio cannavaro e ispirati dal genio creativo di andrea pirlo gli azzurri hanno intrapreso un viaggio indimenticabile superando le avversità e mostrando una determinazione incrollabile hanno superato una fase a girone impegnativa hanno eliminato l'australia in un teso incontro agli ottavi di finale e hanno trionfato sull'ucraina ai quarti di finale una drammatica vittoria in semifinale contro i padroni di casa della germania ha allestito una finale da cardiopalma contro la francia l'italia vanta una ricca collezione di stadi di calcio storici e moderni ognuno con il suo carattere e fascino unici il san siro di milano sede sia del milan che dell'inter è uno degli stadi più iconici del calcio mondiale rinomato per la sua imponente struttura e l'atmosfera elettrizzante lo stadio olimpico di roma sede di numerose finali di coppa italia e partite internazionali è un'altra meraviglia architettonica intrisa di storia e tradizione dalle folle appassionate dello stadio diego armando maradona di napoli all'atmosfera fervente dell'allianz stadium della juventus a torino gli stadi di calcio italiani offrono un'esperienza davvero coinvolgente il calcio italiano ha prodotto una pletora di giocatori leggendari che hanno onorato il gioco con la loro abilità passione e carisma dalle prolifiche gesta da gol di giuseppe meazza alle prodezze difensive di franco baresi e paolo maldini le icone del calcio italiano hanno lasciato un segno indelebile sulla scena mondiale anche il genio tattico di allenatori come arrigo sacchi giovanni trapattoni e marcello lippi ha plasmato l'evoluzione del gioco influenzando generazioni di allenatori e giocatori in tutto il mondo il calcio è più di un semplice sport in italia è uno stile di vita una fonte di orgoglio nazionale e un argomento che domina le conversazioni quotidiane la passione per il calcio unisce persone di ogni ceto sociale trascendendo le barriere sociali e culturali le sorti delle squadre locali sono seguite con fervore religioso con i giorni delle partite che trasformano le città in vivaci celebrazioni dello sport e della camaraderie l'influenza del calcio si estende oltre il campo permeando l'arte la musica la letteratura e il cinema italiani il calcio italiano ha lasciato un'eredità duratura sulla scena mondiale plasmando il panorama tattico tecnico e culturale del gioco più bello del mondo l'enfasi sulla disciplina tattica la solidità difensiva e il passaggio fluido dalla difesa all'attacco hanno influenzato allenatori e giocatori in tutto il mondo la passione la drammaticità e l'arte del calcio italiano continuano ad affascinare il pubblico di tutto il mondo dagli stadi iconici ai giocatori leggendari e alle innovazioni tattiche l'influenza del calcio italiano sul gioco globale è innegabile grazie grazie